brani dal libro battesimo di spirito e liberazione del pastore danny smith capitolo 11 liberazione dagli idoli prima parte esiste un altro importante aspetto della liberazione dall'influsso di satana nella nostra vita come abbiamo già visto noi assumiamo atteggiamenti e comportamenti sbagliati per tentare di alleviare il dolore emozionale che proviamo provando a risolvere il nostro problema tramite la carne così ci ritroviamo arrabbiati gelosi critici con gli altri affetti da disordini alimentari dipendenti da alcol tabacco o altre droghe possiamo anche cercare sollievo tramite attività peccaminose che procurano piacere fisico come la pornografia o diventando dipendenti dal gioco d'azzardo tutte cose che pensiamo raggiungano l'obiettivo di trovare sollievo alle nostre paure interiori alle ansie alle tensioni il nostro desiderio è raggiungere la pace interiore la gioia e la felicità quando diventiamo cristiani ci rendiamo conto che questi atteggiamenti e comportamenti sono peccaminosi per questa ragione facciamo un grande sforzo per eliminarli se abbiamo una volontà debole scopriamo ben presto che la vittoria è impossibile se siamo persone volitive può prenderci un po più tempo per rendercene conto sappiamo che la bibbia dice che la fede è vittoria prima giovanni 5 4 e che possiamo ogni cosa in cristo che ci fortifica filippesi 4 13 raddoppiamo allora gli sforzi aspettandoci che dio aggiunga la sua potenza al nostro impegno nel riformarci ma di nuovo sperimentiamo il fallimento allora ci mettiamo in discussione chiedendoci qual è il mio problema sono davvero convertito voglio veramente essere come gesù ripetutamente caschiamo in quegli stessi atteggiamenti e comportamenti sbagliati eppure sappiamo che tali cose sono peccati e anche autodistruttive così continuiamo a domandarci qual è la risposta la risposta la risposta è che non capiamo il vero problema allora qual è il problema reale che causa le nostre attitudini sbagliate e che ci fa fare cose sbagliate prima di tutto quando cerchiamo sollievo al nostro dolore e alle ferite attraverso qualunque altro mezzo che non sia dio noi facciamo di quei mezzi un idolo per esempio se usiamo il cibo come psicofarmaco per alleviare lo stress e l'ansia quel cibo diventa un idolo per noi ha preso il posto di dio nella nostra vita rabbia amarezza pornografia disordine alimentari tabacco alcol e droghe tutto il resto diventano idoli per noi quando li ricerchiamo per trovare sollievo invece di cercare dio inoltre il sollievo che danno queste cose è di breve durata e tale dipendenza richiedono sempre di più per garantire conforto di conseguenza la prima cosa che dobbiamo fare è riconoscerli come idoli e chiedere a dio di perdonarci per averli fatti di venire tali nella preghiera dobbiamo essere molto specifici con dio per quanto concerne gli idoli che potremmo aver messo al suo posto inoltre come già detto chiediamo di continuare a infonderci il suo spirito la pace che desideri si trova solo nella potenza dello spirito santo che produce nella tua vita il frutto dello spirito è anche importante che tu capisca e cerchi di sperimentare l'amore di dio nella tua vita seguendo i passi trattati nel capitolo precedente sperimentare l'amore di dio senza una tale comprensione ciò che descrivo qui di seguito sarà molto difficile da raggiungere un'altra cosa importantissima da fare è riconoscere la tua incapacità di vincere i desideri della carne contando sulla tua forza di volontà l'esperienza di paolo quando dio gli parlò illustra bene questa verità ma egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza perciò molto volentieri mi glorirò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di cristo riposi su di me perciò io mi diletto nelle debolezze nelle ingiurie nelle necessità nelle persecuzioni nelle avversità per amore di cristo perché quando io sono debole allora sono forte secondo a corinzi 12 versetti 9 10 una verità basilare che ogni cristiano deve imparare è che la forza di dio è portata a compimento nella nostra debolezza che cosa vuol dire significa che più tento di vincere semplicemente esercitando la mia forza di volontà meno la forza di dio sarà presente in me significa che non dovrei tentare di ottenere la vittoria no assolutamente no vuol dire che spesso noi proviamo nel modo sbagliato che cosa dovremmo fare allora come possiamo aspettarci di vincere prima di tutto chiedi a dio di abbattere ogni fortezza che satana ha eretto nella tua vita per controllarti alcune delle fortezze con cui siamo tormentati e che influiscono negativamente sulla nostra vita sono concupiscenza collera spirito ipercritico gelosia avidità disordini alimentari droghe eccetera paolo ci spiega come mettere fine a tutto questo perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in dio distruggere le fortezze affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di cristo seconda corinzi 10 versetti 4 e 5 semplicemente e specificatamente chiedi a dio di distruggere la fortezza del e credi che egli lo farà riempi tu la parte con i punti di sospensione tu sai quali sono le tue fortezze ma abbatterle è il lavoro di dio non il tuo il tuo è quello di chiedergli di farlo e credere che egli farà ciò che ha detto che avrebbe fatto paolo lo chiarì quando scrisse ora il dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero vostro spirito anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del signore nostro gesù cristo fedele è colui che vi chiama e farà anche questo prima tessalonicesi 5 versetti 23 24 per favore nota che è dio colui che ti santifica ed è dio colui che ti chiama e che farà anche questo la nostra parte è credere ciò che egli dice dobbiamo imparare a guardare a dio avendo fiducia che egli ci darà la vittoria la promessa del nuovo patto è vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei mie statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti ezechiele 36 26 27 di nuovo prendi nota che è dio colui che ci dà un cuore nuovo e nuovi desideri è dio che ci fa camminare nei suoi statuti per metterli in pratica noi dobbiamo credere che farà ciò che ha detto per esempio quando qualcuno si comporta in modo da farci arrabbiare e siamo tentati di dire qualcosa per allentare la tensione possiamo fare diverse cose con fede immediatamente storniamo la nostra mente dalla tentazione di andare in collera vede filippesi 4 versetto 8 chiediamo a dio di darci gioia e pace credendo che egli lo farà attraverso gesù che vive in noi e manifesta se stesso in noi tramite lo spirito santo vedi i frutti dello spirito in galeti 5 versetti 22 23 ringraziamo dio perché ci dà gioia e pace questo approccio vale per ogni tentazione ci libera dalle nostre ansie dalla paura dallo stress e dal dolore che proviamo nella carne guarda dio con fede credendo che egli provvederà ad ogni nostro bisogno la verità è che dio è l'unica fonte di un genuino e durevole amore della gioia della pace eccetera questa fonte si ottiene tramite gesù che vive in noi e manifesta il frutto del suo carattere in noi cristo in noi è la nostra speranza di gloria che splende dentro di noi attraverso di noi colossesi 1 27 rimando il lettore al mio libro battesimo dello spirito e di morare in cristo per una spiegazione dettagliata del come lasciare che gesù viva la sua vita dentro di noi